Al via da stamane le ordinanze di prevenzione antincendio a Milo e Zafferano e Tenea. La stagione estiva, lo sappiamo, è spesso complice di roghi causati da vegetazione secca e terreni incolti. Ecco perché il sindaco di Zafferano e Tenea, Alfio Russo, ha emesso un'ordinanza di prevenzione incendi valevole da oggi sino al 15 ottobre, in cui spiega che, dato l'elevato rischio di innesco e propagazione degli incendi di aree abbandonate a causa delle elevate temperature climatiche estive e la presenza nel territorio comunale di abitazioni attigue ad aree aperte ad uso pubblico, che presentano vaste porzioni di terreni incolti con sterpagli, arbusti, rami, rovi che possono favorire il propagarsi del fuoco e i conseguenti gravi danni che potrebbero intaccare la pubblica incolumità, ritiene opportuno predisporre misure atta a prevenire l'insorgenza di tali problemi. Per questo obbliga tutti i proprietari di terreni a provvedere entro oggi alla pulitura e rimozione di erbacce, rami, rovi in vegetazione e alla realizzazione di fasce tagliafuoco non inferiori a 10 metri lineari, lungo strade, sentieri, edifici, impianti agricoli e al totale discerbamento per un raggio di 10 metri delle zone in cui siano presenti i serbatoi di gas a cielo aperto. Fra i divieti c'è anche quello di accendere fuochi, far brillare mine e usare apparecchi a fiamma per tagliare metalli. L'amministrazione comunale si solleva così da qualsiasi responsabilità nel caso di incidenti. Fino al 15 ottobre negli stessi terreni si dovrà provvedere a mantenere lo stato dei luoghi, la pulizia, evitando il crescere di erbacce. Chi non osserverà le prescrizioni verrà sanzionato con multe pecuniarie. Stesso discorso per Milo, in cui il sindaco Alfio Cosentino, con ordinanza del 24 maggio, prescrive che da oggi fino al 15 ottobre si devono attenzionare boschi e terreni incolti, nello specifico i proprietari di terreni dovranno ripulirli entro il 30 giugno. Le disposizioni sono le medesime di Zafferano e Tennea, con qualche piccola variazione, per cui i proprietari e i gestori di strade e pertinenze stradali dovranno provvedere entro il 20 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e allo smaltimento dei residui. L'ufficio tecnico comunale, entro il 20 giugno, provvederà invece alle aree di competenza comunale. Anche per il paese pedemontano, salate sanzioni amministrative sono previste per i trasgressori. Anche per i trasgressori